Sono passati 21 anni e dopo 21 anni si commettono gli stessi reati di prima, la stessa Tancentopoli di prima, tante volte con le stesse facce di prima, con lo stesso senso di impunità, anzi peggio, perché Berlusconi ha detto che vuole reintrodurre addirittura l'immunità parlamentare proprio perché per lui il cancro è l'azione dei giudici, non la delinquenza che è entrata in politica. Per questa ragione bisogna smetterla una volta per tutte, di prendersi con i magistrati che fanno il loro dovere e bisogna invece chiedersi fino a che punto si può sopportare che questa classe politica, questa classe imprenditoriale per fare gli affari propri ruba agli italiani le proprie risorse. La Commissione Civile lo abbiamo denunciato più e più volte con interrogazione parlamentare, mozione, istanzi, interventi in aula per pregarlo di rimuovere Orsi, per pregarlo di non consegnare ulteriori denari a Bambera al Monte dei Paschi di Siena, per pregarlo di dare corso al risultato dell'ispezione della Banca d'Italia. Abbiamo fatti esposti anche nei confronti della Banca d'Italia, della Consob per il mancato controllo. Allora, quando si succedono fatti di questo genere bisogna chiedersi se è colpa soltanto di erotica ammazza i bambini, cioè i delinquenti che commettono i reati, di cui rispondono penalmente, o anche dei tanti ponziopilati a cominciare da questo governo e da questa classe politica che per 21 anni hanno nascosto la polvere sotto il tappeto per non vedere ciò che stava accadendo.